E' finalmente iniziata la stagione dello sci alla Betone, dopo due mesi di sofferenza, di mancanza della neve, è scesa sull'Appennino Pistoiese, tantissime le persone che hanno affollato in questo primo fine settimana le piste di tutto quanto il comprensorio, sentendo le persone che sono arrivate, tanto entusiasmo per essere tornati finalmente a sciare. Da dove vieni? Da Pisa. Come hai trovato la Betone oggi? Fantastica. Tutto il giorno, mattina, sera, finché si può? Sì, sì, dalle otto sono qui. La pista in buone condizioni? Perfetto, perfetto, tutto aperto, sci, fantastico, neve compatta, appena fatta, speriamo che duri. Quanto vi è mancata la neve? Parecchio, la stagione è cominciata veramente tardi quest'anno. Pensa di tornare dopo questa prima giornata? Sì, sì, senz'altro, senz'altro. Almeno un fine settimana sì e uno no. Bello, sì, c'è un po' di vento però si sta bene perché inizia oggi la stagione sciistica e siamo contenti. Col Fiatone? Sì, col Fiatone. Quante volte ha fatto suo Ejigoggi? Questa è la quinta, la prossima sarà la sesta. Fino a dove vuole arrivare? Alle quattro e mezza, quando chiudono gli impianti. Bisogna sfruttare la giornata fino in fondo? Fino in fondo, fino in fondo. Per te sciare che vuol dire? Sciare, liberarsi, è bello. Tra la neve mi piace tanto. C'era tanta voglia di tornare a sciare? Sì, ovviamente, l'aspettavamo da tanto. Come hai trovato le piste oggi? Belle, ben ordinate, ben organizzate, impianti, quindi mi sono trovato veramente bene. Pensi di tornare nel corso della stagione? Sì, ovviamente, lo consiglio a tutti. Ah, spettacolare, è arrivata la neve finalmente, quindi va benissimo. Per lei la Betone che cosa rappresenta? Casa, veniamo qua dal 70, quindi per noi è casa. È stato un anno difficile, poca neve, ma ora finalmente ci siamo. Speriamo che, cioè, è arrivata la neve, speriamo che duri un po' nel tempo e ci faccia finire la stagione, tranquilli. Siamo tutti contenti di aver ripreso, i bambini in particolare, gli sci club, siamo tutti pronti. Casati. Tutti i weekend veniamo, aspettiamo gare, Pinocchio e così via.